Quella volta era un'attività. Rilanciare il monte di Colbordolo a livello sportivo e turistico è l'obiettivo del comune di Vallefoglia che per l'area in questione ha pensato ad un progetto ad hoc che entro l'anno potrebbe vedere la luce. Pista da pump track, area crossfit, potenziamento, punti della raccolta rifiuti, area barbecue, sentieri ad uso promiscuo per biciclette, trekking nella pineta, sono solo alcuni dei punti principali del progetto ideato e promosso da un gruppo di giovani ciclisti del territorio. Abbiamo avuto assieme un insieme di idee che abbiamo presentato in comune che abbiano accettato questo progetto di rilancio del monte di Colbordolo. Abbiamo proposto di realizzare una pista per quanto riguarda i più piccini da realizzare accanto al parco giochi già esistente, una pista da pump track. Una zona di crossfit per i più adulti che magari insieme in famiglia accompagnano i bambini a divertirsi in bicicletta e approfittano anche per fare un po' di attività fisica. Abbiamo pensato anche ad un'area barbecue sul monte di Colbordolo, una bellissima zona adiacente al vecchio ristorante Orizzonte dove potersi, speriamo appena finisca questa pandemia, riaggregare e fare qualche bella mangiata tutti insieme. Un'area camper di sosta dove la gente che transita, i turisti che transitano a visitare la valle dell'Urbinate o il bellissimo borgo di Montefabri possano magari sostare o fermarsi un giorno in più, una nottata in più qua nella zona e perché no approfittare dell'area barbecue o di un barretto qua per mangiare. Poi abbiamo pensato anche al discorso biciclette e trekking valorizzando i percorsi già esistenti in mezzo alla parte boschiva del monte e realizzare e aggiungere qualche altro percorso più o meno impegnativo per anche i biker più estremi che vorranno dilettarsi nelle discese a partire dai 396 metri del monte di Colbordolo e raggiungere il fondo delle varie vallate di Ponte Vecchio e di Buca Ferrara. L'idea è ridare una centralità al monte di Colbordolo che è uno dei punti più importanti dal punto di vista paesaggistico, ambientale e storico e culturale della città di Vallefogli. In secondo luogo, ma questo lo diremo a sé, presenteremo a breve un progetto di quasi 2 milioni di investimenti sul monte di Colbordolo e Montefabri di depurazione e di metanizzazione, cioè di qualità ambientale delle zone collinari e poi valorizzare anche la ristorazione, qui si mangia da Dio, si sta bene, c'è l'aria buona, c'è di tutti e di più. L'abbiamo già provato come giunta, si tratta di vedere, di trovare alcune risorse per realizzarlo. Una volta provate il progetto, sapete bene che se uno ha le idee, ha i progetti, cerca anche le risorse per realizzare le idee progettuali.